Buongiorno a tutti ragazzi sono NGK Official e benvenuti in questo nuovo video Oggi ci ritroviamo qui ancora sulla nuova serie di Minecraft con mio fratello Che visto che siamo arrivati ai 12 like la sto apportando Per chi avessi visto la live di oggi avete visto come abbiamo cambiato la nostra casa Dal primo episodio a questo episodio E stiamo ancora facendo un bel po' di roba Oggi cosa volevo fare? Volevo prendere i miei picconi e tutto E andare subito in caverna perché voglio trovare i diamanti Perché se non trovi i diamanti raga non sono felice Quindi devo trovare assolutamente i diamanti Quindi prendiamoci gli stick, prendiamoci tutto Prendiamoci questo, prendiamoci la fornace E raga io direi che possiamo andare Io direi, allora abbiamo cobblestone? No Quindi andiamo a prenderci un secondino di cobblestone proprio qui Perché raga cosa ci serve? Ci serve la cobblestone per farci tipo un bel po' di picconi Così almeno non sprechiamo il piccone di ferro perché il piccone di ferro ci servirà Se troviamo tipo oro, barra diamante, barra lapis lazio eccetera Quindi per adesso volevo lasciarlo così Per dopo, cioè per usarlo dopo Prima che per caso si spacchi e dopo non ce l'abbiamo più Quindi allora facciamo così Boom, boom, boom Ma perché ora ho messo i semi? Ok, facciamoci subito gli stick E facciamoci i picconi Allora possiamo farci due picconi Quindi uno, due per adesso Quindi molto buono Possiamo tenerci nei due picconi E andiamo subito, direi subito, di partire così Mentre ci mangiamo il pane, con il pane Allora, dove partiamo? Io direi di partire un attimino lontano da qui Perché sennò dopo comunque da un po' Cioè, imbruttisce un attimino la casa Quindi io direi di partire da qui sotto Sì, dai Che comunque non si vede E di iniziare subito a scavare Sperando che si trovi qualcosa Perché raga, io adesso volevo scendere subito Al dodicesimo livello Perché come voi sapete Come voi sapete Al dodicesimo livello si trovano Cioè, c'è più, molta più possibilità Di trovare i diamanti E io, raga, sono stupido Perché non ho preso le torce Ok ragazzi, sto cercando un attimino Ho fatto una via un po' lunghina Poi ho girato verso destra Per cercare qualcosa Ma raga, sembra che io non trovi nulla Provo a controllare un attimino anche qui Ma Ne dubito proprio Ma veramente tantissimo Andiamo una Raga Sì Sì No raga, non ditemi che è solo uno Due? Raga, due? Tre? Raga Tre? Tre? Per adesso solamente tre, raga Tre? Non dirmi, dai Dai che siete bravi Che ne fate avere altre No raga, solo tre mi sa Mi sa che questo è il quarto Eh sì, raga Quattro Vabbè dai, buono No qua, niente Uno Due Tre E quattro, raga Buonissimo, raga Dai, qui troveremo qualcos'altro Vai, continuiamo Continuiamo Raga, io credo Oh, redson, ok Raga, se sentite un po' di rumori di sottofondo di Un po' di acqua e Sono i miei genitori Vediamo un attimino, raga Eh, speriamo in bene Speriamo in bene Raga, comunque qualcuno mi sta continuando a scrivere Adesso vedo un attimino chi è Dai, vediamo un po', vediamo un po', raga Speriamo, dai Uh, altra redstone, raga Altra redstone Adesso metto un attimino in pausa il video Se trovo altri, raga, vi faccio sapere Ok, ragazzi Ho trovato veramente, veramente Molta roba Adesso vi faccio subito vedere Cosa ho trovato Prima di tutto Vi faccio vedere la cosa molto più importante Che ho trovato altri diamanti Che sono quattro Dovrebbero essere Se non mi ricordo male Quindi sì Ne abbiamo, raga, otto Veramente, veramente molto buono Oltre a quello Qui non c'era nulla Giusto, ok Oltre a quello abbiamo trovato Un po' di redstone Ma vabbè Quella lì Se la prendiamo Ci mette un botto di tempo Prima avevo trovato un po' di Un po' di ferro Ma Eh, avevo tagliato il video Quindi Non lo vedrete Però Ne avevo trovato un pochino Come potete vedere Adesso ne ho 17 Che prendiamo la redstone Perché comunque Prima di tutto Ci dà un botto di Di xp E noi L'xp serve E secondo di tutto Potrebbe aiutarci Veramente A fare le pozioni Eccetera Eccetera Ah, prendi 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 Tutto Quello Che puoi Ok Preso Adesso Vediamo un attimino Se c'è qualcos'altro Che magari Che per caso Avevo lasciato Eccolo Ok 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 raga Fatto Adesso Il problema È ritornare su Ah, dovrebbe essere di qua Quindi forse Non è neanche un problema No Non è di qua Non è di qua Ah ok Era di qua Era di qua Ok raga Adesso in teoria Dovrebbe essere Di qua Un video di uscita Vabbè Raga La devo trovare Ci metterò Un bel po' Ma veramente Un bel po' Oh no Forse l'ho trovata No Forse è di qua Ma raga Sto facendo tutto Il giro Uguale Mi sa di sì